...lingua, complimenti! Se è la mia memoria, nel mistero dell'amore le stagioni giungono quando è il loro tempo, l'amore non ha fretta, può vivere dei ricordi del passato, può ritrovarsi nel presente, ma quando il corpo vacilla può essere affidato a un cuore sapiente che sappia custodirlo e rigenerarlo. La felice vita di coppia, fatta di tocchi di magia, vive del mistero dei silenzi, della dolcezza delle carezze, ma è fatta di progettualità che si costruisce passo dopo passo per andare incontro all'amore, sempre più in là, oltre la vita. L'anno scorso ha fatto un quarto posto, quindi voglio dire, è sempre in ascesa, quindi brava, senti! Sì, c'è la portata di mano? 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 Prendo soltanto due parole senza tediarmi nessuno anche perché vedo che siamo rimasti in pochi, però questo denota anche il fatto di essere in pochi, che la poesia unisce senza dubbio e chi ha il desiderio di stare insieme agli altri sta ancora. Io non immaginavo di arrivare a questo, cioè al secondo posto chiaramente, però è un orgoglio, ma soprattutto devo ringraziare intanto la giuria, ma quella fantastica donna, già stasera ne abbiamo dette tante, ne hanno dette tante di te, è una donna vulcanica sotto tutti gli aspetti, ma sa regalare tante emozioni, così come le emozioni che si riesce a regalare con le poesie. Le poesie unisce. Io sono un'insegnante e ringrazio Dio che ogni giorno vedo i miei ragazzi con l'entusiasmo di ascoltarmi. Perché quando scrivo qualche poesia, non sono i primi, forse sono le vittime, poverini, dico sempre chiudete gli occhi ed ascoltate quello che ho da dirvi. E quello che faccio io anche quando sono in giuria, perché devo ascoltare anche l'ipotetico poeta che dall'altro lato ha scritto, avvergato le pagine, perché ci sono le emozioni, ci sono i dolori, le sofferenze. Infatti la mia poesia, che sembrerebbe quasi una poesia di dolore perché c'è la malattia, però sembra un'accorata preghiera che si rivolge proprio all'amato perché sta perdendo la memoria. Benissimo, sappiamo tutti che c'era oggi il dramma dell'alzheimer, chi è che non riesce più a ricordare chi sia, il passato, i momenti belli. E io le ho voluti mettere in versi. Appunto, se è la mia memoria perché, rivolgendosi all'uomo che ama, deve fare lui, cioè deve essere la memoria della donna che consapevolmente sa che sta perdendo la donna. Parlamo ancora del nostro amore. La giovinezza era nostra compagna, i battiti del cuore la nostra colonna sonora. Spezierati, innamorati, vivevamo il presente. Erano tu e le mani che sfioravano le mie, tu e le labbra che delicatamente baciavano i miei occhi. Soli, incuranti degli altri, ci abbracciavano. Ora, striere d'argento, prendono il posto di bionde ciocche. Piccole rughe risaltano sulla fronte. Parlamo ancora dei nostri figli, frutto del nostro amore. I miei ricordi diventeranno sbiaditi. Sarai tu la mia memoria. La padrona delle mie emozioni, cinica, si approprie di me. Tra poco, non riconoscerò neanche te, amore mio. Custodisci il nostro amore e conservalo per sempre. Rimarrai l'unico sostegno della vita mia. Trascina fatica i miei giorni. Ma amo la vita. Parlami ancora di noi. Perdonami se puoi, se non riuscirò più a volare. Grazie. 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 E ci siamo. Adesso con...